La verità che nessun segno zodiacale vorrebbe sentirsi dire. Prima di approfondire questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, qual è la verità che nessun segno zodiacale vuole sentirsi dire? Che rappresenta il proprio punto debole, quello che il segno stesso vive come punto dolente, come nota dolente, insomma come difficoltà e quindi ovvio che diventa un nervo scoperto che non vuole sentirsi dire, non vuole che qualcuno vada anche soltanto per sbaglio a toccare quel nervo scoperto, insomma perché è quella verità che fa male, che fa soffrire, insomma. Allora, l'ariete non vorrebbe mai sentirsi dire di essere troppo superficiale perché teme la superficialità e riconoscerla in se stesso gli dà veramente molto fastidio, gli genera veramente molta sofferenza. Il toro non vorrebbe mai sentirsi dire da qualcuno, soprattutto da qualcuno che tiene, che è pigro, perché il toro è pigro. Vorrebbe combattere la pigrizia, cerca di superare la pigrizia, ma il toro è davvero pigro. Poi abbiamo i gemelli. I gemelli che sono sempre distratti, sono sempre un po' con la testa tra le nuvole, non fanno mai le cose giuste, non vogliono sentirsi dire dagli altri stai attento, stai attento a quello che fai, non combina la giusta. E questo il gemello lo pattisce, lo pattisce molto perché è un po' toccare un suo punto debole. Il cancro, cosa non si vuole mai sentire dire il cancro? Il cancro è un po' permaloso, quindi si deve dire ma scusa tu sei troppo suscettibile, basta dirti un qualcosa e subito cambio umore, ti inalberi, eccetera, sei veramente permaloso e suscettibile. Questo lo destabilizza perché non accetta spesso questa parte di sé. Il leone ovviamente è il segno egocentrico per eccellenza, che però non vorrebbe sentirsi dire di essere egocentrico e quindi qualcuno dice ma scusa tu sei troppo pieno di te, sei troppo questo ego ipertrofico, vuoi sempre, insomma, chi ti credi di essere? Il chi ti credi di essere il leone non lo sopporta, non lo sopporta assolutamente, gli dà veramente fastidio. E la Vergine, il segno della Vergine non vuole sentirsi dire ma sei troppo razionale, sei troppo rigido, sei talebano nelle scelte, insomma. Questo lo mette in crisi perché va a smontare un pochettino quelle che sono le sue caratteristiche. E poi veniamo al segno della bilancia. Il segno della bilancia, la bilancia può pendere da una parte, può pendere dall'altra e quindi la bilancia hanno difficoltà a prendere le decisioni, insomma. E quindi quello che uno dice su, devi decidere, deciditi questa cosa, decidi, decidi qualcosa. Ecco, questo il segno della bilancia, siccome non sa mai decidere, come dire, perché lui magari decide, è convinto di sposarsi, però al 70%, al 60%, al 49%, al 51%. E quindi sente quella vocina di dentro e dice, no, ma lascia perdere, guarda che non è la persona giusta per te, lascia perdere. E quindi questo Tarlo, sarà la persona giusta per me o non lo sarà, lo rode, insomma. Questa è la bilancia, questa caratteristica. E poi veniamo al segno dello scorpione. Il segno dello scorpione è un segno passionale, ma è sempre sull'agitazione andante, è un segno un po' agitato, lo scorpione. E questo patisce perché, quando lui dice, ma rilassati, rilassati un attimo, stai calmo, stai calmo, rilassati, rilassati. E lui si sente colpito nel, diciamo, si sente colpito nel, come dire, nel vivo. Si sente buttato il sale sulla ferita. E anche quando al sagittario è un po' simile, il sagittario è anche un po' iperattivo, no? E quando qualcuno dice, fermati, fermati un po', cosa stai facendo? Sempre a fare qualcosa, fermati. Anche il sagittario, da questo punto di vista, si sente colpito proprio nel vivo e patisce un po'. Capricorno. Il capricorno patisce quando qualcuno gli dice, ma questa cosa di te non va mica bene. Perché il capricorno ha questa, come dire, tendenza a volersere perfetto. E quindi quando qualcuno gli dice che una cosa di lui non va bene, la digerisce con difficoltà. Diciamo così, un po' un boccone amaro da digerire, insomma. E poi veniamo al segno dell'acquario, che siccome il segno dell'acquario è un segno cociuto, che vuole avere sempre ragione, e quando qualcuno dice, guarda che non hai ragione, su sta cosa hai torto, hai torto marcio. Lui si accaponisce, dice, no, qua, là, va, cerca di arrampicarsi sugli specchi, ma non è che riesce a, come dire, ad accettare il fatto di avere torto. Non lo accetta, e quindi soffre, quando qualcuno gli dice, hai torto. E poi veniamo ai pesci, che si fanno sempre in quattro per gli altri, cercano comunque il pesce un segno sensibile. Soffre molto, non accetta, quando qualcuno gli dice, guarda che non sei mica indispensabile. Ma non sei mica indispensabile. Ecco, queste sono le cose che ogni, le verità, che ogni segno zodiacale non vorrebbe sentirsi dire. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti! Grazie! Grazie!